musica 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 eeeh chisa 15 questo e altri due capitoli con questo fanno gli ottimi tre vediamo che succede ora mmm amicia è sconvolta mi sa proprio di si amicia stai calma amicia shhh arthur e io ci trovavamo ma hai disperato per tre giorni amicia hai quasi morto eravamo così preoccupati hugo lasciami sola pensa mai che hugo bello che è andato bene un mese dopo addirittura come on stop dormendo forza smettere di sognare gli altri saranno svegli fra poco arriveranno i ratti dobbiamo accendere i fuochi addirittura il lucchetto è ancora congelato eh già è inverno duro quest'anno vabbè ti sognato di nuovo eh sì ti preparo un infuso speciale di erba non ti preoccupare lucas non c'è bisogno riesco lo stesso a dormire manca tutto tutto qui ti manca era il mio fratellino accettare il fatto che non tornerà amicia sei sicura ti voglio fare vado a vedere gli altri oh vuoi dire il forziere certo meli ti darà qualcosa basta che ci fai pipì sopra ma fa troppo freddo ok oh abbiamo tutto oh ok andiamo dai ragazzi dai ragazzuoli ah ho proteggito la donna inutilemente ah prendiamo altra roba hai dovuto trovarti Hugo ok ciorellini il mi serve un banco da lavoro questi oggetti ricordo ogni luogo ogni istante vabbè bla 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 la zuppo a chi tocca meli meli ok va bene ok 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 ma dove stanno gli altri ora vai tranquilla Eole vai Roderick ha potuto proseguire quel lavoro colpa del freddo a margine ok e dove stanno questi oh dove si sono andati altra porta stanno giù e ok ok andiamo a vedere ok va bene ragazzi 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 sapete che vi dico che quest'altro capitolo data l'ora che si è stato no riusciamo ancora a farlo ok si può fare ascoltate questo farà buio dobbiamo accendere i fuochi aiutarmi Arthur vai vai vedi che di non aiutarla a morte annoiarla a morte è perché si è rompiscata oh Lucas mi aiuta con il suo fortiere ok ok andiamo a posto di piacere cominciamo con la andiamo ok andiamo ecco ecco ok uno è andato accendiamo gli altri ah no niente li devo accendere ah no niente scusa ma non posso scendere con me perché non posso scendere ah stupido piece of crap ah non posso più scendere dalla scala e proprio di no o forse devo avvicinare questa è la scala per poter scendere allora come va eh mi sento vecchia non è un brutto aspetto essere vecchia grazie ma ascolta non conosco benedetto fratello ma ti piaceresti davvero sei salvato eri stato catturato sei riuscito a scappare un po' come l'eroe di un libro un eroe e sarebbe dispiaciuto vederti andare via ah mi sa che l'inquisitore ha trasformato Yugo eh sicuramente avrà fatto qualcosa per potenziarlo vedete è passato dalla parte dell'inquisitore forse il bracere centrale è vicino alla fossa ok ah bene bene l'ha fatta ah ok arrivo ok ti prendi quello io controllo il bracere come stai? perchè va bene perchè è stato piuttosto intenso prima farei dei calci e faceva così anche mio padre sto solo portando avanti la tradizione ora che lui ad ogni modo tu come stai? ah io sto bene mi piace anche mi piace anche il figlio eh dobbiamo sempre allargare l'area di ricerca Rodrik è inutile è già passato un mese perchè non pensiamo solo a preparare il fosso per la notte vabbè Arthur ti vuole tutta per sé vedete il becco vediamo altrimenti lasciate questo mistero obbligante faccia il suo lavoro vediamo un po' oh manca qualcun altro da accendere si si non ho dimenticato ah devo finire di accendere il bracere c'è sta un'altra dove è l'altra da accendere? ah ecco ok penso che siano tutti no ok ok insomma mi pare di averli accesi tutti no? si vedete controlliamo un attimo prendiamo un po' di roba ok ok dobbiamo spostare vicino ai fossati ok saliamo parliamo un attimo con lui forse ora possiamo fare qualcosa ecco 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 nessun altro saremmo in grado di arrampicarsi fuori dal fosso il sistema è qui per una ragione Arthur Arthur Melly si stanca si è stancata a scappare Melly non siamo come te ma forse neanche Melly è come te e va bene ho capito penso ai braceri sulle fortificazioni ah ok vado a spostarlo arrivo arrivo eccomi vado c'è anche della roba qua perfetto vediamo se questo capitolo riusciamo a finirlo così poi dopo rifermiamo così si mangia e poi ci vediamo alle 9 e mezza con Mass Effect oh c'è questa roba qua ok vai 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 oh ma c'è ancora parecchia roba qua eh da prendere la fammi prendere prima tutta la roba ho capito ok questa contro i lati secondo me facciamola che è meglio ok eh si il lavoro pesante sempre lo devi fare e meno male che era la è il lord del posto eh eccoli mamma mia aspettate nel frattempo che arrivano i ratti mi soffia il naso non è possibile non è possibile oh c***o oh c***o che sono troppi che sono troppi sì Arthur Amicia fuggite torrete torniamo indietro no aspetta non ti preoccupate aiuto io ok ti apre un passaggio ah no tu lui lui apre un passaggio a me vabbè perché mi piace la imposizione guarda si stanno organizzando non mi è rimasto più inifer non posso fare niente si con il loro modo l'ho già fatto prima d'ora ok andiamo un po' ok oh sono no 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 No, 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 no. Oh. Oh. Eh, aspetta, guarda. Amicia, verso il piacere. Ah, qua, ok. Vezio quale piacere? Eh, sto verso il piacere, oh. E allora? Ok. Ecco, ti aiuterò a raggiungere. Ok, coraggio. Vai, forza. Uh. No, 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 no. Eh, ho visto, un attimo. Eh, dove vuoi che vado ora? Scusami. Oh, no, 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 no. Oh, dai. Si sta facendo un po' di confusione, eh? Sta facendo un po' di confusione, eh? Eh, la fai? I'll get you out of there. Ecco. Eh. Eh. Vai. Eh. Devo farne altre. Che devo fare? Vado di qua? Finalmente, santo ce la pensavo. E neanch'io pensavo ce la facciamo più. Ringrazio, attaccate ora. Ti porto lì. Che devo fare con lui? Ah, forse devo spostare io questa, giusto? Sennò non venivo fino qua. No. No, 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 no. Come stai facendo? Allora, io spero di essere qui, allora, qui, qui. Che cosa sta succedendo, Amicia? Sì, hanno già provato a tre volte a entrare. Vediamo se così. Vieni. Porta. Guarda che ce la facciamo, su. Ecco qua. Oh, a pelo. A pelo l'ho salvato. A pelo. Amici, non sono più bambini, sono abituati. Non voglio avere una cosa di altrischi. Non ho intenzione di perdere qualcun altro. In verità, c'è che vorrei essere il più lontano possibile da qui. Purtroppo non sono uno fregone. Vabbè. Ragazzi? Dovevo scappare. I topassi? Non li posso più respingere. State bene? No. Cosa devo stare succedendo? Arthur, sei stato morso? No, dobbiamo andarci da qui, però. Ma il castello è stato fatto per resistere. Lucas, non ci sono mai state così. Questa non è una semplice infestazione. Che diavolo è allora? Eh. Aia. E ora? Di qua, presto. Ah, ah. È arrivato. Oh. No. Oh. Oh. Vai. Fa ciò che va fatto. Oh. Forza. Oppure vogliono uccidere Amicia? Penso proprio di sì. Oh, Hugo. È stato il tuo sogno. È stato il tuo sogno. Ok. Ma ragazzi, la fine di questo capitolo lo vediamo domani. Per ora mi fermo che tra poco si mangia. Quindi approfitto di questo salvataggio per potervi salutare. Ok, il castello è stato accaduto a precedente per questo genere di situazione. Il tuo castello sta cadendo a pezzi. Ratti attraverso la difesa come un coltello caldo nel burro. Ascolta, devo parlare con Hugo. Posso? Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.